Le opere sono come quantità una cinquantina di opere, tra piccole e grandi, di gente ne ho vista molta oggi, oggi c'è stato veramente un afflusso importante, a parte io penso che anche i mercatini che ci sono qui nella corte del castello attirano molta gente, poi c'è un'altra mostra fotografica di là, di gente ce n'è stata veramente tanta, però hanno ammirato tutti la mia mostra, ho avuto complimenti un po' da tutti, anche perché hanno visto un po' queste novità dei quadri sul Monferrato, sull'Alsazia, sull'Olanda, qualche animale, qualche novità magari natalizia come Babbi Natale e poi i classici paesaggi innevati che faccio io. Diciamo che il castello è sempre affascinante, uno entra in un castello, poi quello di Gagliate è effettivamente molto bello e le sale anche onestamente sono tenute benissimo, con dei pavimenti veramente belli, è bello, un castello veramente tenuto bene, fa piacere fare mostre in questi luoghi e poi naturalmente anche l'importanza di questa mostra perché ho dedicato veramente molti mesi per fare questi quadri. When it snows, ain't it thrilling, though your nose gets a chilling, we'll frolicking play, the Eskimo way, walking in a winter wonderland, walking in a winter wonderland, walking in a winter wonderland, WE'LL BE WALKING IN A WOLDERLAND Grazie a tutti